Salve a tutti signori, ben ritrovati qui su Pausa Caffè, lutto nel mondo del calcio purtroppo è toccato all'ex Premier League col Coventry City, ovvero Cedric Russo, che è stato colto da un malore mentre stava praticamente rilassandosi in terrazza a casa sua, nella sua Mons, città che lo adorava per i tanti gol realizzati per la squadra locale. L'ex attaccante del Brescia Cedric Russo ha perso la vita a causa di un infarto. E l'accaduto nella città natale e di residenza dell'ex giocatore, Mons in Vallonia, a 70 km dalla capitale Bruxelles, che lo adorava per le tante reti realizzate con la squadra locale, nel massimo campionato. Il malore ha colpito fatalmente Russo, mentre quest'ultimo si stava rilassando su una terrazza del mercato cittadino. Inutili i soccorsi. Si trattava di un centravanti Giramondo, considerato una delle promesse della sua generazione tanto da attirare dopo una prolifica stagione con la maglia del Gent le sirene della Premier League edizione 2000-2001, non certo ricca e ultracompetitiva come oggi, ma sicuramente già allora tra i migliori campionati d'Europa. Indossa subito la maglia del Coventry City, segna otto reti nell'anno della retrocessione dalla massima serie inglese, che gli elefanti stavano per riacciuffare proprio un mese fa nello spareggio Championship poi perso contro il Luton Town, per poi passare in First Division, la seconda lega all'Olverampton Wanderers. Lasciata l'Inghilterra, torna in patria, nella sua Mons, ben 22 centri nella stagione 2002-2003. Quindi Genk e Standard Liege con, in mezzo, un mezza stagione in Russia, al Rubin Kazan. Le ottime prestazioni in Coppa UEFA con lo Zulte Waregem nella prima parte della stagione 2006-2007, a gennaio viene portato in Italia dal Brescia, in Serie B, senza però riuscire di ambientarsi. Appena tre presenze tra le gestioni tecniche di Mario Somma e Cersei Cosmi, insieme a un giovanissimo Marek Hamshik. Torna di nuovo al Mons, nella sua comfort zone, dove mette a segno altre 13 segnature, prima di approdare a Cipro, nella E-Cup a Larnacca e chiudere nelle squadre minori di Belgio e Olanda, fino al ritiro, datato 2011. La sua Mons, nelle ultime ore, ha salutato il suo campione in maniera commovente e accorata.